Il Comune di Teramo Ufficio Commercio sta stilando in queste ore l'elenco di bar e ristoranti che rimarranno aperti per il Ferragosto. Pochi, pochissimi quelli che avevano comunicato l'apertura al Comune e così l'assessore Marco Tancredi ha inviato due dipendenti ad informarsi. Sì, lo stiamo facendo, stiamo sollecitando le attività di somministrazione proprio stamattina per farci avere... Alcune lo hanno già comunicato e altre le sollecitiamo stamattina per farci sapere qual è il loro piano delle ferie per Ferragosto. Credo che i cittadini abbiano il diritto di sapere, soprattutto il giorno di Ferragosto, quali sono le attività alle quali possono far riferimento. Una regolamentazione delle chiusure sarebbe da farsi anche per le dicole. In centro hanno deciso di chiudere quasi in contemporanea. Forse sarebbe il caso, io facevo il riferimento a domenica, io personalmente le dicole di Piazza Martire e Piazza Orsini erano chiuse, ma non per questo voglio dire che loro hanno il diritto, però magari potremmo per dare un miglior servizio all'utente che oltretutto proprio in centro storico, di solito d'inverno sono aperte alternativamente, ma anche primavera, fino ad oggi sono state aperte almeno quelle di Piazza Martire, alternativamente l'uno o l'altra. Vorrei capire perché almeno una delle tre a mio avviso dovrebbe essere aperta, però noi non abbiamo nessuna possibilità impositiva su questo. Loro si regolamentano autonomamente.